Eccolo! Treviso rende omaggio ad una delle figure più importanti della città che ha assegnato la storia, Giovanni Comissi, uno dei più grandi scrittori del Novecento, e lo fa intintorando la biblioteca civica di Borgo Cavour. È un dovere valorizzare i padri fondatori di Treviso, sottolinea l'assessore Colonna Preti. Mi ricordo sempre che una civiltà che non ricorda d'omaggio al passato è una civiltà senza futuro, una frase che può sembrare scontata ma così non è. Quindi oggi l'intitolazione della nostra biblioteca storica è un atto dovuto ma anche una grande festa della città, perché ricordo che la Genesi è venuta proprio per una sottoscrizione popolare, possiamo dire così, perché le maggiori associazioni culturali del territorio hanno fatto proprio una petizione al sindaco e a me per intitolarle. Alla cerimonia era presente la nipote di Giovanni Comisso che regala alcuni ricordi di lei, bambina, durante gli incontri con lo zio. Io me lo ricordo lo zio quando tornava dai suoi viaggi, che mi prendeva, andavo a trovarlo in camera perché scriveva sempre, e fra le tante cose lui mi diceva, non so, mi raccontava dei suoi viaggi. Gina Saccardi, figlia della signora Margherita, pronipote di Comisso, racconta come lo stia conoscendo meglio proprio attraverso i suoi scritti. Cercando adesso di conoscerlo di più attraverso quello che ha scritto, attraverso i suoi libri, attraverso gli articoli di giornale dei suoi viaggi, che viaggiava molto e scriveva divinamente. Con questa intitolazione speriamo che i ragazzi, quando entreranno in biblioteca, possano ispirarsi e portare nel cuore un po' di Comisso, dice il sindaco Conte. Questo significherebbe uscire dalla biblioteca certamente più ricchi di cultura, ma anche di storia della nostra città, attraverso un gigante della storia della città di Treviso, Giovanni Comisso, che ringrazio e mi scuso anche per il ritardo, perché forse la città di Treviso doveva celebrarlo qualche anno prima. Grazie a tutti.